E con questa domanda del Ministro Generale al termine della sua omelia pronunciata questa notte vogliamo dare il benvenuto a Fra Daniele Moffa, parroco di Pietrelcina collegato con noi per questa giornata così bella, così carica di emozioni, di significati. Fra Daniele bentrovato, pace e bene, buona festa di San Pio. Buongiorno a tutti voi, pace e bene, buona festa a tutti voi. Grazie. Allora Fra Daniele ti abbiamo strappato alla celebrazione che sappiamo essere conclusa da poco e ti ringraziamo per aver ritagliato un po' del tuo tempo per noi. Allora raccontaci come Pietrelcina ha vissuto questa notte, la notte della veglia che tradizionalmente anche a Pietrelcina viene organizzata. Beh sì, ormai diciamo che la veglia di Padre Pio è quasi come la veglia pasquale, ecco permettetemi un po' la battuta perché si fa in tutte le chiese, in tutte le basiliche, in tutte le cappelle del mondo. Io oltre ad essere parroco qui a Pietrelcina sono anche un po' il coordinatore dei gruppi di preghiera e quindi so bene che in tutte le parrocchie della Campania anche si svolge la veglia in preparazione al transito di Padre Pio. E beh però qui a Pietrelcina ha un sapore particolare. Questa notte, sì, l'abbiamo vissuto in preghiera attraverso il Santo Rosario, animato dai gruppi presenti, attraverso l'adorazione eucaristica nella quale abbiamo voluto pregare per tutte le intenzioni che ci vengono affidate quotidianamente, quelle intenzioni di preghiera che la gente, i pellegrini ci affidano qui nei nostri santuari. E poi la Santa Eucaristia presieduta dal nostro guardiano Padre Fortunato e la lettura del transito che è sempre molto commovente ed è sempre commovente vedere come la gente ascolta e vive questa lettura del transito proprio con partecipazione, con commozione e si vedono anche tante lacrime che rigano i volti delle persone mentre ascoltano gli ultimi istanti della vita di Padre Pio. Ecco, un po' questo nella fede, nella preghiera. Ieri era domenica, dalle prime ore del mattino potremmo dire, dalle prime messe, quella delle 7, delle 8 e 30, abbiamo avuto una grande partecipazione di gente, davvero una folla potremmo dire. Tantissime persone, pullman, macchine, famiglie, parrocchie sono venuti proprio nel giorno del transito qui a Pietrelcina. La carissima Mariana Morante ci ha inviato anche delle immagini relative alla veglia di questa notte. Non so se con la regia riusciamo anche a condividerle con i nostri amici telespettatori. A te, Fra Daniele, faccio la stessa domanda che abbiamo fatto poco prima a Padre Roberto Sardu. Qual è il significato di questa edizione 2024 della festa di San Pio da Pietrelcina, proiettandoci anche ovviamente al giubileo che si aprirà la notte di Natale dedicato al tema della speranza? Beh, sì, Padre Pio possiamo dire che è il santo della speranza. Io in questi anni qui a Pietrelcina sto verificando proprio questo, come la gente venga qui a Pietrelcina, ma anche a San Giovanni Rotondo, penso certamente, venga perché la gente cerca la speranza, perché la gente è carente di speranza. Il mondo non offre più la speranza. Allora i fratelli, le sorelle, la gente, il popolo si aggrappa alla fede. E possiamo dire che nei nostri santuari si respira ancora questa aria di fede. E Padre Pio è uno di quei santi che nel cuore delle persone riesce a dare tanta speranza. Quindi pellegrini di speranza. E allora questa festa 2024, potremmo dire, di Padre Pio, sì, ci proietta proprio in questo clima di speranza. E ancora di più sarà accentuato questa tematica, proprio a partire dal giubileo. Perché vedo Padre Pio come realmente il santo della speranza. Il santo a cui tutta la gente fa riferimento per avere un po' di speranza in più, per vivere bene il proprio quotidiano, la propria vita quotidiana. E poi è anche bello fare un riferimento alla pace. Dobbiamo assolutamente sentirci impegnati, responsabili nell'affrontare questa situazione. Non possiamo, come figli spirituali di Padre Pio, non possiamo restare indifferenti alla guerra. I gruppi di preghiera di Padre Pio nascono proprio per questa esigenza, per pregare per la pace. E allora oggi più che mai i frati in prima linea, insieme ai figli spirituali di Padre Pio, i gruppi di preghiera, insieme alla gente, devono essere in prima linea per pregare per la pace. Non possiamo restare indifferenti alla guerra. Non possiamo fare in modo che la guerra diventi qualcosa di ordinario, di scontato, che non ci fa più paura e non ci scuote più. No, dobbiamo rispondere alla guerra con la preghiera. E penso che Padre Pio è il santo della speranza. Ma anche noi possiamo essere cristiani della speranza se rispondiamo a questo odio con l'arma della preghiera, come diceva Padre Pio. Grazie, Fra Daniele, per questo appello veramente molto forte e molto bello. Io però voglio chiederti una cosa. Padre Pio ha vissuto a Pietrelcina i primi anni della giovinezza, i primi anni dell'apostolato. Chi era il giovane Padre Pio? Beh, il giovane Padre Pio, questa è una bella domanda. Avremmo bisogno... Perchè, insomma, possa servire anche ai giovani. Avremmo bisogno di dieci puntate. Hai fatto una domanda troppo difficile. No, no, è bella perché mi sta a cuore. Io penso che il giovane Padre Pio, il Padre Pio che viveva qui a Pietrelcina, era un giovane frate, un giovane sacerdote, che viveva realmente tante crisi profonde, crisi spirituali, crisi umane, crisi anche di salute. Sappiamo bene della sua salute cagionevole. Noi quando pensiamo a Padre Pio, pensiamo quasi a un supereroe, quasi. Ma Padre Pio ha vissuto i drammi che tutti i giovani di oggi vivono. Anche lui si è sentito un po' messo da parte, anche lui si è un po' sentito escluso, in certi sensi. Quando voleva rientrare in convento, qui da Pietrelcina, cercava di rientrare, ma non poteva per tanti motivi. E ha vissuto davvero un forte dramma nella sua vita, una forte crisi spirituale, anche forse di identità. Tante volte nelle lettere lui si domanda ma io che sto a fare qui? Perché? Perché signore mi tieni lontano dal chiostro? E questa può essere anche un orientamento, una risposta ai tanti giovani di oggi che cercano comunque un orientamento nella vita, che cercano il proprio posto nella società e nella Chiesa. Ecco, Padre Pio, nonostante tutto, nonostante queste crisi profonde, ha saputo vivere questo abbandono. Ecco, il segreto di Padre Pio, penso che sia proprio questo, abbandonarsi a Dio, fidarsi di Dio, lasciarsi guidare dalla parola di Dio, anche quando le cose sembravano un po' buie. Ecco, Padre Pio, come dicevo prima, proprio perché è il santo della speranza, perché lui in prima persona ha saputo vivere questa speranza, ha avuto lui bisogno di tanta speranza, soprattutto negli anni qui a Pietrelcina, quando si vedeva un po' smarrito. Ecco, potremmo dire. Sì, certo, i primi anni. Bene, Fra Daniele, allora noi ti ringraziamo, dobbiamo andare in pubblicità, augurando a te, ai cari frati di Pietrelcina, una buona festa di Sampio da Pietrelcina. Appunto, ci ritroveremo, speriamo presto per continuare a parlare di questa figura straordinaria. Grazie, Fra Daniele. Un abbraccio a tutti. Buona festa a voi. Grazie. Buona festa a te, ai frati, a tutta la cittadina di Pietrelcina che è sempre nel nostro cuore, parafrasando un po' anche le parole del nostro grande Padre Pio. Andiamo in pubblicità e poi ancora insieme, perché ci sposteremo da Pietrelcina, rimarremo ovviamente sempre a San Giovanni Rotondo, ma andremo nei luoghi della festa con la nostra Paola Russo. Restate con noi.